ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco a riliare sf gruppe srl ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa a riliar confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere a riliar durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è a riliar a riliare un farmaco a base del principio attivo esome prazzolo magnesio triidrato appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida è commercializzato in italia dall'azienda sf gruppe srl a riliar può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni a riliar 20 mg 14 capsule gastro resistenti a riliar 20 mg 28 capsule gastro resistenti a riliar 40 mg 14 capsule gastro resistenti a riliar 40 mg 28 capsule gastro resistenti informazioni commerciali sulla prescrizione titolare sf gruppe srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo esome prazzolo magnesio triidrato gruppo terapeutico antiulcera forma farmaceutica capsula gastro resistente indicazioni a riliar capsule è indicato negli adulti per malattia da reflusso gastroesofageo gherd trattamento dell'esofacite corrosiva da reflusso gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite risolta per la prevenzione delle recidive trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo gherd in associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'elicobacter pylori e remissione dell'elicobacter pylori associato a ulcera duodenale e prevenzione della recidiva di ulcere peptiche in pazienti con elicobacter pylori associato a ulcere pazienti che richiedono terapia continuata con fans remissione delle ulcere gastriche associate a terapia con fans prevenzione di ulcere gastriche e duodenale associate a terapia con fans in pazienti a rischio trattamento prolungato di nuove emorragie da ulcere peptiche dopo prevenzione indotta dalla somministrazione endovinosa trattamento della sindrome di zollinger ellison a riliar capsule è indicato negli adolescenti dai 12 anni di età per malattia da reflusso gastroesofageo gherd trattamento dell'esofacite corrosiva da reflusso gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite risolta per la prevenzione delle recidive trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo gherd in combinazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da l'icobacter pylori posologia posologia adulti malattia da reflusso gastroesofageo gherd trattamento dell'esofacite corrosiva da reflusso 40 mg una volta al giorno per 4 settimane si raccomandano un ulteriore trattamento di quattro settimane per i pazienti in cui l'esofacite non si è risolta al che presentano sintomi persistenti gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite risolta per la prevenzione delle recidive 20 mg una volta al giorno trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo gherd 20 mg una volta al giorno in pazienti senza esofacite se dopo quattro settimane non è stato ottenuto il controllo dei sintomi il paziente deve essere sottoposto ad ulteriori esami una volta che i sintomi si sono risolti il successivo controllo dei sintomi può essere ottenuto con 20 mg una volta al giorno può essere usato un regime a richiesta prendendo 20 mg una volta al giorno quando necessario nei pazienti trattati con fans a rischio di sviluppo di ulcere gastriche e duodenali il successivo controllo dei sintomi con un regime a richiesta non è raccomandato in associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'elicobacter pylori e remissione dell'elicobacter pylori associato a ulcera duodenale e prevenzione della recidiva di ulcere peptiche in pazienti con elicobacter pylori associato a ulcere 20 mg di areliar con 1 g di amoxicillina e 500 mg di claritromicina tutti due volte al giorno per sette giorni pazienti che richiedono terapia continuata con fans remissione delle ulcere gastriche associate a terapia con fans la dose abituale è di 20 mg una volta al giorno la durata del trattamento è di 48 settimane prevenzione di ulcere gastriche e duodenali associate a terapia con fans in pazienti a rischio 20 mg una volta al giorno trattamento prolungato di nuove emorragie da ulcere peptiche dopo prevenzione indotta dalla somministrazione endovinosa 40 mg una volta al giorno per quattro settimane dopo prevenzione indotta con endovinosa di nuove emorragie da ulcere peptiche trattamento della sindrome di zollinger ellison la dose iniziale raccomandata e areliar 40 mg due volte al giorno il dosaggio deve poi essere aggiustato individualmente e il trattamento deve essere continuato per tutto il tempo clinicamente indicato sulla base dei dati clinici disponibili la maggioranza dei pazienti può essere controllato con dosi tra 80 e 160 mg di esome prazzolo al giorno con dosi superiori a 80 mg al giorno la dose deve essere divisa e somministrata due volte al giorno popolazioni speciali danno renale nei pazienti con funzionalità renale compromessa non è necessario un aggiustamento della dose a causa dell'esperienza limitata in pazienti con insufficienza renale grave questi pazienti devono essere trattati con cautela vedere paragrafo 5 2 compromissione epatica nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata non è necessario un aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione epatica grave non si deve superare la dose massima di 20 mg di areliar vedere paragrafo 5 2 anziani negli anziani non è necessario un aggiustamento della dose popolazione pediatrica adolescenti di età superiori a 12 anni malattia da reflusso gastroesofageo gherd trattamento dell'esofacite corrosiva da reflusso 40 mg una volta al giorno per quattro settimane si raccomanda un ulteriore trattamento di quattro settimane per i pazienti in cui l'esofacite non sia risolta al che presentano sintomi persistenti gestione a lungo termine dei pazienti con esofacite risolta per la prevenzione delle recidive 20 mg una volta al giorno trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo gherd 20 mg una volta al giorno in pazienti senza esofacite se dopo quattro settimane non è stato ottenuto il controllo dei sintomi il paziente deve essere sottoposto ad ulteriori esami una volta che i sintomi si sono risolti il successivo controllo dei sintomi può essere ottenuto con 20 mg una volta al giorno trattamento dell'ulcera duodenale causata da licobacter pylori quando si seleziona la terapia di combinazione del caso occorre tenere in considerazione le linee guida nazionali regionali e ufficiali locali relative alla resistenza batterica durata del trattamento più comunemente 7 giorni ma talvolta fino a 14 giorni e l'uso appropriato di agenti antibatterici il trattamento deve essere controllato da uno specialista la raccomandazione sulla posologia e peso posologia 30 40 kg associazione con due antibiotici a rilier 20 mg amoc sicilina 750 mg sono tutti somministrati insieme due volte al giorno per una settimana 40 kg associazione con due antibiotici a rilier 20 mg amoc sicilina 1 g e claritromicina 500 mg sono tutti somministrati insieme due volte al giorno per una settimana bambini al di sotto dei 12 anni di età rilier non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 12 anni di età sono disponibili forme farmaceutiche più appropriate di esome prazzolo modo di somministrazione le capsule devono essere ingerite intere con del liquido le capsule non devono essere masticate o frantumate per i pazienti che hanno difficoltà di ingestione le capsule possono essere aperte e il loro contenuto può essere mescolato in un bicchiere d'acqua non gassata non deve essere utilizzato nessun altro liquido poiché il rivestimento enterico può dissolversi mescolare e bere l'acqua con i granuli immediatamente o entro 30 minuti sciacquare il bicchiere con mezzo bicchiere d'acqua e bere i granuli non devono essere masticati o frantumati per i pazienti che non sono in grado di ingerire il contenuto delle capsule può essere mescolato in acqua non gassata e somministrato tramite tubo gastrico è importante testare accuratamente l'adeguatezza della siringa e del tubo scelti prima dell'uso per le istruzioni per la preparazione e la somministrazione vedere paragrafo 6 6 contro indicazioni per sensibilità al principio attivo ai benzimidazoli sostituiti o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 l'esome prazzolo non deve essere usato in concomitanza con il finavir vedere paragrafo 4 5 avvertenze speciali e precauzioni di impiego in presenza di qualsiasi sintomo d'allarme ad esempio significativa perdita di peso involontaria vomito ricorrente disfagia e matemesi o melena e quando si sospetta è presente ulcera gastrica deve essere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetti dell'esome prazzolo sulla farmacocinetica di altri medicinali inibitori della proteasi è stato segnalato che omeprazzolo interagisce con alcuni inibitori della proteasi l'importanza clinica e i meccanismi di tali interazioni non vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere a riliare insieme ad altri farmaci come fslamet alcheran compressa rivestita alcheran polvere amasci atazanavir accord atazanavir dottor redis atazanavir crca atazanavir milan atazanavir sandoz avere l'x cefodox compressa rivestita caffodox granulato chiaffodox in a milan compressa rivestita po doc co bassina milan polvere piccolo doc si ma sang 같이 compressa rivestita che poi doc si ma 100 oz bol när ci bralex compressa rivestita compressa rivestiteophobib c National boards infrastrг flexa ricca citalo parama bc compressa rivestita citalo parama bc gol cchte chitarlo par mamus citalo parama Almus Farm, Citalopram Aurobindo, Compressa Divisibile, Citalopram Aurobindo, Gocce, Citalopram Dock, Citalopram Dock Generici, Citalopram EG, Citalopram EG Stada, Citalopram Exala G, Citalopram Exal, Citalopram Multeni, Citalopram Milan Generics, Compressa Rivestita, Citalopram Milan Generics, Gocce, Citalopram Pensa, Citalopram Pensa Farm, Citalopram Ratiofarm, Citalopram Ratiofarm Italia, Citalopram Sandoz BV, Citalopram San, Citalopram San Pharma, Citalopram Tecnigen, Compressa rivestita, Citalopram Tecnigen, Gocce, Citalopram Zentiva, Citalopram Zentiva Italia, Ctesint, Compressa rivestita, Ctesint, Gocce, Calopidogrel Almus Pharma, Calopidogrel Acido Acetil Salicilico Milan, Calopidogrel Laboratori Eurogenerici, Calopidogrel Tecnigen, Calopidogrel Teva, Calopidogrel Zentiva, Dasatinib EG, Dasatinib Crk, Dasatinib Milan, Dasatinib Zentiva, Dinole, Duoplavin, Elopram, Compressa rivestita, Elopram, Gocce, Elopram, Soluzione, Uso interno, Entact, Compressa rivestita, Entact, Gocce, Erlotinib Milan, Erlotinib Zentiva, Eschitalopram Accord, Eschitalopram Alter, Eschitalopram Aurobindo, Eschitalopram Doc, Eschitalopram Doc Generici, Compressa Orodispersibile, Eschitalopram Doc Generici, Compressa rivestita, Eschitalopram EG, Eschitalopram Eurogenerici, Eschitalopram Crk, Eschitalopram Laboratori Alter, Eschitalopram Laboratori Eurogenerici, Eschitalopram Milan, Compressa rivestita, Eschitalopram Milan, Gocce, Eschitalopram Pensa, Eschitalopram Pensa Farm, Eschitalopram Sandots, Eschitalopram Sun, Eschitalopram Technigen, Compressa rivestita, Eschitalopram Teva, Eschitalopram Teva Generics, Eschitalopram Zentiva, Eschitalopram Zentiva Italia, EvoTax, Freemind, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Milan, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Giacchela, Compressa rivestita, Giacchela, Gocce, Gomesa, Indutrex, Iressa, Isentress, Compressa masticabile, Isentress, Compressa rivestita, Isentress, Compresse rivestite, Kaidor, Melfalean San, Melfalean Teva, Melfalean Tillomed, Metotrexate, Compressa, Soluzione, Uso interno, Metotrexate, Soluzione, Uso interno, Metoter, Metotressato Teva, Metotrexato Accord, Fiale Flaconcini Fialoidi, Metotrexato Accord, Soluzione, Uso interno, Metotrexato Doc Generici, Orelux, Compressa rivestita, Orelux, Granulato, Otreon, Compressa rivestita, Otreon, Granulato, Percitale, Plavix, PramFX, Compressa rivestita, PramFX, Soluzione, Return, Reumflex, Reatax, Capsula, Ricap, Compresse rivestite, Ricap, Gocce, Seropram, Compressa rivestita, Seropram, Gocce, Sintopram, Sosecit, Sprichel, Compressa rivestita, Tarceva, Trexoter, Velos, Zilt, ecc. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere a Rillier durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere a Rillier durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza i dati clinici sulle gravidanze esposte ad Rillier sono insufficienti. Con la miscela racemica, o Meprazzolo, i dati provenienti da studi epidemiologici su un numero maggiore di gravidanze esposte non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari esomeprazzolo altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Sono state segnalate reazioni avverse quali capogiri, non comuni, e disturbi della vista, rari vedere paragrafo 4, 8. In presenza di questi sintomi, i pazienti non devono guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza mal di testa, dolori addominali, DRA e nausea sono tra le reazioni avverse più comunemente riportate negli studi clinici, e anche dall'uso dopo la commercializzazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio Fino ad oggi l'esperienza di sovradosaggio intenzionale è molto limitata. I sintomi descritti relativamente a 280 mg sono stati sintomi gastrointestinali e debolezza. Dosi singole di 80 mg di esomeprazzolo sono state prive di conseguenze. Non è noto un antidoto specifico. Esomeprazzolo si lega ampiamente alle proteine e pertanto non è facilmente dializzabile. Come in qualsiasi caso di sovradosaggio, il trattamento deve essere sintomatico e devono essere utilizzate misure di supporto generali. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida, inibitori della pompa protonica codice ATC. A02bc05 esomeprazzolo e ls isomero di omeprazzolo e riduce la secrezione di acidi gastrici, proprietà farmacocinettiche assorbimento L'esomeprazzolo è acidolabile e viene somministrato per via orale in granulia rivestimento enterico. La conversione in vivo nell'erre isomero è trascurabile. L'assorbimento di esomeprazzolo è rapido, con livelli plasmatici, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, Tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti contenuto della capsula Sfere di zucchero, saccarosio e amido di mais, ipromellosa, emulsione di dimeticone al 35% Contenenti di meticone, propilpidrossibenzoato, e 216, metilpidrossibenzoato, e 218, acido sorbico, sodio benzoato, polietile in glicole sorbitano monolaurato, farmaci equivalenti I farmaci equivalenti di areliare a base di esomeprazzolo magnesio triidrato sono AXAGON, CULLEZOES, ISODOR, ISOME PRAZZOLO ALMUS FARMA, ISOME PRAZZOLO ALTER, ISOME PRAZZOLO ARISTO, ISOME PRAZZOLO AURUBINDO, ISOME PRAZZOLO DOC, ISOME PRAZZOLO DOC GENERICI, ISOME PRAZZOLO EG, ISOME PRAZZOLO EUROGENERICI, ISOME PRAZZOLO GIFT, ISOME PRAZZOLO CRCA, ISOME PRAZZOLO MILAN GENERICS, ISOME PRAZZOLO MILAN GENERICS ITALIA, ISOME PRAZZOLO PENSAFARMA, ISOME PRAZZOLO SANDOZ, ISOME PRAZZOLO SANDOZ, ISOME PRAZZOLO SANDOZ, ISOME PRAZZOLO SAND BV, Esomeprazolo Teva Italia, Esomeprazolo Zentiva, Esopral, Izzoran, Gastress, Lucen, Compressa gastroresistente, Compresse barra capsule gastroresistenti, Nexium, Compressa gastroresistente, Compresse barra capsule gastroresistenti. Fonte, Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.